È tornato a Sondrio dalla casa nella Bergamasca dove si trova agli arresti domiciliari da martedì scorso il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Fabio Molinari. Un ritorno non certo negli uffici di via Donegani in cui la scorsa settimana è stato raggiunto dall'ordinanza cautelare emessa dal GIP Antonio De Rosa su richiesta della Procura della Repubblica di Sondrio, ma in via Mazzini in tribunale per l'interrogatorio di garanzia. Sebbene dopo la bomba delle perquisizioni e del sequestro di una mole di materiale informatico e documentale dello scorso giugno il provveditore si fosse dichiarato disponibile a collaborare, pare che oggi Molinari abbia ritenuto di non dare la propria versione di quanto gli viene contestato e si sia avvalso della facoltà di non rispondere. Nessuna conferma da parte dell'avvocato Stefano Di Pasquale del Foro di Sondrio che difende il dirigente dell'Ust insieme alla collega Sara Riva del Foro di Bergamo. Tuttavia la breve permanenza in tribunale stamattina del Molinari lascerebbe immaginare proprio che l'interrogatorio si sia risolto in un nulla di fatto. L'indagine e l'ordinanza del giudice avviata nel gennaio di quest'anno dalla Procura e dalla sezione mobile Nucleo PEF della Guardia di Finanza guidata dal tenente colonnello Arturo Tacconi riguardano ipotetiche condotte di concussione, induzione indebita, peculato e turbata libertà degli incanti. Le indagini intanto vanno avanti, proprio sabato si è svolto un summit in procura per verificare la sussistenza di ciò sinora accertato attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione e l'ascolto di nuove persone oltre alle decine già incontrate perché informate sui fatti. Verosimile anche che questione di ore ad essere raggiunti da avvisi di garanzia saranno i dirigenti di alcune scuole coinvolte negli illeciti contestati a Molinari, dirigenti amministrativi che avrebbero secondato le richieste del provveditore per ragioni che ora saranno chiamati a motivare.